Le immagini delle auto dopo lo scontro danno l'idea della violenza dell'incidente. Quello accaduto ieri sera intorno alle 21 a Brugneto di Reggiolo nel Reggiano in cui è rimasta coinvolta una donna di 34 anni di Viadana e i suoi due figli di 13 e 8 anni. I tre viaggiavano su una lancia Y che per cause ora al vaglio dei carabinieri di Campagnola si è scontrata frontalmente con un Audi Q5 guidata da un 23enne di Luzzara di origine albanese. L'impatto è stato talmente violento che l'Audi, come ben si vede dalle immagini girate da Telereggio, è stata svalzata fuoristrada, ha divelto una recinzione ed è finita nel giardino di un condominio lungo la provinciale. Il vuoto dell'incidente è riecheggiato in tutta la zona e i residenti hanno così subito avvertito i soccorsi. La centrale del 118 ha inviato sul posto quattro mezzi e ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per liberare i feriti. Ad avere la peggio è stato il ragazzino 13enne di Viadana. È ricoverato in rianimazione all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio, in prognosi riservata. La mamma è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale di Brescia. Ricoverato in ortopedia, ha riportato diverse fratture. Ne avrà per due mesi. Meno grave, il fratellino di otto anni, che dopo essere stato medicato all'ospedale di Reggio, è stato dimesso in mattinata. Dimesso anche il conducente dell'Audi, per lui solo ferite lievi, nonostante la sua auto sia praticamente distrutta nella parte anteriore.